E' stato presentato il marchio collettivo ristorante tipico d'Abruzzo alla presenza di alcune tra le più prestigiose firme della ristorazione del territorio che hanno lavorato per definirne il disciplinare del presidente della regione Marco Marsilio e dell'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. Sì, unica regione in Europa ad avere un marchio collettivo ristorante tipico d'Abruzzo, un marchio che può essere utilizzato in tutto il territorio d'Europa, quindi anche fuori dai convini regionali, oltre l'Italia, in tutti e 28 gli stati europei, chiaramente si devono assoggettare poi al controllo perché è chiaro che devono utilizzare i nostri prodotti. Credo che sia un traguardo importante, un altro tassello che mettiamo all'interno di un ragionamento di mettere l'Abruzzo a sistema, di mettere il nostro turismo a sistema. Quando si parla di turismo si parla di enogastronomia e non si può fare almeno di parlare di agricoltura e di ristorazione. Un disciplinare particolarmente impegnativo, come spiega Franco Franciosi dall'Osteria Mamma Rossa di Avezzano. La cosa importante è che chi vuole stare all'interno della legge regionale deve utilizzare per la propria cucina almeno il 60% dei prodotti provenienti dal territorio della regione Abruzzo. C'è chi voleva fare questa legge ancora più astringente, ma di fatto non è possibile perché ci sono alcune ricette di tradizione, ad esempio parlo del baccalà, ricette di tradizione abruzzese, baccalà in Abruzzo non ce l'abbiamo, lo importiamo. Quindi abbiamo lasciato una percentuale a pannaggio di altre spese, però considerando quel 60% che deve essere inevitabilmente comprato qui. Quindi quando entrerò in un ristorante tipico e chiederò un antipasto di salumi e formaggi, sarò sicuro che quel salume e quel formaggio sarà la produzione autentica di un artigiano, di un pastore, di un contadino di questo territorio. Alla presentazione del nuovo marchio ristorante tipico d'Abruzzo ha voluto essere presente anche Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo. La pattuglia degli apripista, le tabelle storiche, vediamo adesso quanti saranno quelli che aspireranno ad entrare, che risponderanno al disciplinare e che potranno esibire questo marchio. Io spero tanti perché comunque un processo di crescita e di qualificazione non può che far bene a tutto il territorio, al nostro sistema della ristorazione, associare il paesaggio, alla natura, alle bellezze, all'arte presente nel nostro territorio, anche la possibilità di godere della enogastronomia di qualità, che oggi è un mercato molto, molto, molto ricercato e oggi diventata un elemento quasi imprescindibile. Il disciplinare del marchio collettivo ristorante tipico d'Abruzzo tiene conto, prima di tutto, della tradizione, non ignorando però l'evoluzione dei tempi e la capacità di innovazione. Torniamo ad ascoltare Franco Franciosi. Poi abbiamo diviso le tre sezioni nel solpo della tradizione, tradizione e innovazione e innovazione. Che significa questo? Che comprendiamo tutti i tipi di proposta ristorativa, sia chi vuole fare soltanto tradizione, ristorante di tradizione, meravigliosa, tradizione meravigliosa. Poi abbiamo alcuni rappresentanti che da anni portano avanti, certificano, catalogano ricette di tradizione. Tradizione e innovazione, chi ha un piede nella tradizione con uno sguardo all'innovazione e chi fa innovazione pura. Quindi lasciamo spazio anche all'avanguardia abruzzese, all'avanguardia gastronomica. Tra i promotori sostenitori di questo marchio del ristorante tipico d'Abruzzo, c'è Lanfranco Centofanti, che rappresenta uno storico locale, l'angolo d'Abruzzo. Volevo chiedere appunto una sua opinione su questa legge, che ovviamente poi dovrà essere messa alla prova. Ma questa è una legge meravigliosa. Diciamo che noi sono 30 anni con la vecchia associazione tra pastore e pescatori che ci stiamo lavorando. Non a caso i presenti della vecchia associazione, io, Marcello e Peppino. Però ci sono voluti proprio tutti questi anni, perché provare a far entrare nella cultura del territorio e certi valori del territorio alimentare, di spendere felicità alimentare, che è difficile, e farlo capire a tutti i vari politici o giornalisti stessi che si sono susseguiti in queste cose, si rischia di trovare molta incompetenza e molta incapacità di interpretazione dei prodotti, perché i veri prodotti ce li portano i contadini, sono quelli i veri testimoni del territorio.